Signori, modalità aereo, film italiano del 2019, niente di eccezionale, pensavo peggio, l'inizio è veramente devastante, però dai, 6.3 si ripiglia diciamo verso la fine, al momento è su Netflix, non è in capolavoro, film italiano a bassa qualità, però qualcosina. Un saluto a tutti, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, ciao ciao!